Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show, oggi show numero 221, Giorgione! Oggi cercheremo di capire quello che potremo vedere al Giro delle Fiandre, visto quello che sta succedendo al nord Europa in questi giorni, parleremo anche dei successi a Catalun e anche di un articolo interessante di Marco Gaviglio, sito uscito su Ciclo Web. Iniziamo la show! Lead Story! Si fa caldo qua l'ambiente in vista del Giro delle Fiandre, è stato un weekend molto interessante per quello che riguarda le gare in Belgio, con un E3 Arelbeck spettacolare, davvero abbiamo visto i tre dell'Ave Maria attaccare insieme da soli, insieme da soli per la prima volta e poi una bella, meno spettacolare, più fresca, meno spettacolare perché a circa l'arrivo ci sono chiusi i giochi, e mancavano gli altri due, e mancavano gli altri due fenomeni. Stiamo parlando ovviamente di Vot van Aert, Matteo van der Poel e Tadej Pogacar, che sono riusciti a stare insieme alla E3 Arelbeck e arrivare insieme a volata a giocarsi la vittoria allo sprint, sprint vinto da Vot van Aert, prima vittoria stagionale per lui, un inizio complicato, anche se comunque va sempre forte come il suo solito, è riuscito a sbloccarsi a E3 e qualche giorno dopo alla Gameway Evergame ha regalato la vittoria alla Porta, una vittoria che avrebbe potuto vincere tranquillamente arrivando anche da solo, vedendo la gamba che ha avuto e come ha tirato nel tratto dall'ultimo Kemmerberg all'arrivo. E' stato molto spettacolare, come dicevo, il gran primo di Arelbeck, perché abbiamo visto questi tre tenori fare questo affondo che ha messo in croce tutto il gruppo, all'inizio hanno reagito in 4-5, in un gruppetto di 8, poi ovviamente i tre avevano una marcia in più, e quando sono rimasti poi loro tre, quello un po' più in difficoltà sui muri era Van Aert. A un certo punto abbiamo visto veramente in difficoltà soffrire, staccarsi di qualche metro, poi rientrare quando la strada è diventata più favorevole. Sì, è interessante quello che ha detto per un'intervista, ha detto posso sembrare stupido ma la lunga imparo, cioè ha visto che dei tre quel giorno in salita sui muri era quello che ne aveva di meno, allora ha cercato di non strafare, non essere generoso come il suo solito, si è tenuto la gamba, non ha più risposto agli attacchi in prima persona, ha fatto chiudere sempre Van Der Poel con attaccava Poggi, e in volata è partito al momento giusto da dietro in ultima posizione ed è riuscito a vincere. Sì, è stato bello vedere quando sembrava che volessero metterlo in mezzo Van Aert, lui invece ha saputo proprio aspettare, come dici tu è stato freddo in quel frangente, e secondo me ha sbagliato un po' Pogaciar a gestire il finale di corsa, ha fatto due attacchi un pochino... Cosa doveva fare? Tanto sapeva che arriva a terzo con quel giugno. Pogaciar aveva battesato Van Aert l'anno scorso in Canada, eh? Una corsa molto più dura però, in un periodo diverso della stagione. Tanto gliela date comunque non è impossibile per lui. Poi vabbè, no, avrebbe fatto terzo comunque per carità. Però ho visto questi due attacchi, non mi sono piaciuti, gli ha fatti un pochino... il primo un po' ha telefonato. Secondo me ha fatto bene, perché magari ha sfruttato anche la rivalità psicologica tra i due, chi va a chiudere, vai tu, vai io, vai... C'è anche da dire che se Van Der Poel esita due secondi due... È dura andarla a prendere poi, eh? Si vuote guardare Van Aert, sì, vero anche quello. Poi Giacrono va forte, ha sperato in quello. Poi, strapotere Van Aert alla Gant, non c'erano gli altri due ok, l'ha seguito il suo compagno di squadra Laporte, bellissima azione, e quindi possiamo dire che oggi arriviamo al Giro delle Fiandre, mancano cinque giorni, con Van Aert superfavorito. Io non vorrei essere nei suoi pan, aspetta, aspetta un attimo. Ti faccio questo esempio, tu hai corso in bici una vita, quando nelle categorie giovanili vincevi comunque davanti, trovi sempre il cugino, lo zio, e allora grande condizione, domenica magari c'è il campionato erogionale, c'è la gara più importante. Campionato erogionale. Sì, sì, si vince la domenica. Ma tu pensa adesso, Van Aert che è a casa, perché in questi giorni sarà a casa, vado al penettiere, il penettiere gli dice allora abbiamo la squadra più forte, in grande condizione, primo e secondo, cioè domenica ce la facciamo portare a casa questo Fiandre, il cognato dice questa cosa, lo zio, è tutto. Lui piano piano rischia di accumulare questa pressione, magari non è così, sto giocando un po' su questa cosa. Sì, allora diciamo che è una corsa in cui la squadra conta fino a un certo punto il Fiandre, lo sai anche te, cioè, se io mi immagino come potrei usare Laporte, Van Barley, Beno, tutti questi corridori molto forti, come posso usarli? Nel senso, perché alla fine quando sfiamano Pogacar e Van Der Poel, Van Aert va dietro e rimangano ancora loro tre, con qualcun altro magari. Naturalmente la strategia delle grandi squadre al giro del Fiandre è sempre di mandare in avanzo a Petra e poi ritrovarsi. Poi la può trovare, però è difficile, allora Van Aert potrebbe puntare a arrivare a un gruppo ristretto e regolarla in volata, oppure potrebbe anche dire, sapete cosa c'è, saremo in volata, voi fermate, appartiamo da fermo, mi battete sempre, magari può anche provare ad andare da solo, perché si è visto che quando è da solo e macina è difficilissimo andarlo a chiudere. Io parlo proprio della pressione che può avere intorno, perché alla fine lui non ha ancora vinto il Fiandre, è comunque in un momento ottimo, di condizione, le cose riescono a bene, ha vinto, e quindi può arrivare al Fiandre, uno pensa con una grande tranquillità perché ha già vinto, no, perché alla fine, è brutto da dire, per un belga, per un belga, come lui, un fenomeno come lui, conta vincere questo maledetto Fiandre, quindi non vorrei che ci arrivasse magari, poi magari ha imparato a gestire lo stress, come abbiamo visto, ha imparato a gestire il finale di corso ad Avelbeck, e magari arriva là, non sbaglia niente. Tu fai un bel pronostico a favore di qualcun altro e così vince Van Aert, perché l'altra volta hai detto Van Aert non ne vince più neanche una, ha vinto qualche giorno dopo. No, non ho detto, no, è il monumento, ho detto tra Fiandre, Roubaix e Mondiale, ho detto ho la sensazione, magari di queste tre qui non le, però magari ho detto, mi sbaglio, io sono aperto a qualsiasi soluzione e mi farebbe piacere vederlo vincere, però io ti farò Van Der Poel, mi dispiace, Giorgio, a me piace di più Van Der Poel, però ne ha già vinte due, magari è giusto che, non lo so. Giorgio, tu cosa ne pensi? Tu ti fai Van Aert, spudola la tazza. Ma si sa, si sa, è una cosa che si... Magari vince Pogaccia, per vedere. Ma sarei contento per Pogaccia, è molto contento perché... Noi siamo sempre contenti. Sì, 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 non è che siamo tifosi che ci arrabbiamo se vinci un altro, è ovvio che se vince il beniamino siamo più contenti, ma... Però io voglio consigliare al panettiere, non mettete perso, non parlate della del Fiandre con Vox, per favore. Panettiere, di Van Aert, fai un video mentre entra a comprare il prosciutto, fai un video. Tutto bene a casa, la famiglia, i bimbi, però è un palazzo del Fiandre, perché è scommodo a volte. Cambiamo totalmente l'argomento? Cambiamo totalmente l'argomento, caro Giorgione. È uscito qualche giorno fa una notizia relativa a Luci che intende dare 2000 euro per ogni corridore passato World Tour a tutte le squadre che l'hanno gestito da quando era giovanissimo, quando è iniziato a correre, fino al suo passaggio a professionismo. È interessante l'articolo di Gaviglio, uscito su Ciclo Web, dove dice che essenzialmente, siamo d'accordo parzialmente, che è una mancetta, essenzialmente è un qualcosa che lucida le squadre, non è quello che cambia la cosa, però è già un qualcosa che le squadre di basso livello può aiutare. Il problema è che non è arrivare al professionismo, è arrivare proprio a World Tour, e sono pochi i corridori che passano a World Tour, e questi 2000 euro magari non fanno questa grossa differenza. Però l'idea di monetizzare il passaggio da una squadra all'altra ad un corridore è qualcosa che avviene in altri sport, e permette di premiare il valore aggiunto che hanno le squadre giovanili, ma anche le professional che magari lanciano tanti talenti per riuscire a tenere qualcosa con sé. Anche perché c'è un lavoro enorme nel cercare di valorizzare il più possibile alcuni talenti, quindi si lavora tantissimo per ottenere risultati, si tutela l'atleta, e alla fine in un batter d'occhio, in un battito di ciglia, arriva lo squadrone, te lo porta via e tu rimani con un po' di moschi in mano. Quindi questo è 2000 euro sempre niente, però è già un punto di partenza, si vede che lui si sta andando in una certa direzione. Sì, il ciclismo giovanile può aiutare, ricordiamo che il ciclismo giovanile per ogni passaggio di squadra bisogna pagare nulla osta, quindi in base ai punti che ha fatto il corridore, la squadra che lo prende deve pagare la scuola da cui arriva. Questa cosa non è il massimo perché incentiva le squadre giovanili a far fare tanti risultati ai ragazzini in modo che facciano tanti punti quando li vendono alla squadra successiva al passaggio di categoria. Il problema grosso poi è anche quando si passa a prof, appunto. E quando siamo passati noi c'era sempre questa specie di... Sì, c'è un nulla osta da pagare di 5.000 euro, magari questa è una cosa che stanno in pochi, quando un ragazzo da Andrea 23 passa a prof, la squadra che lo prende deve pagare 5.000 euro a scuola dilettante che l'ha cresciuto. Il più delle volte è successo anche a me, la squadra prof non ha nessun interesse di spendere 5.000 euro in più rispetto al tuo stipendio e quindi tu se vuoi nulla osta devi pagarti di tasca tua e 5.000 euro la squadra dove correvi. Magari ti lasciano la bici per compensare un po' la cosa, però è un qualcosa che alla fine ricade sempre se non è lo più debole di tutto questo giro che è sempre il corridore. Noi siamo due, io dovevo ricevere dei soldi di premi dalla squadra, alla fine non li ho ricevuti per compensare questa cosa. E' una cosa abbastanza comune che non si sa, le squadre di Andrea 23 in questo modo monetizzano, però alla fine che pagano sono i corridori. Le squadre prof magari pagano anche loro, ma se sei un corridore di altissimo livello che deve passare, la squadra prof di avere quei 5.000 euro li paga tranquillamente. Se sei un Giorgio Brambilla che passa in una professional che non ha fatto grossissimi risultati, la squadra professional dice ascolta prendo un altro e piuttosto che passare li pagavo io quei soldi ovviamente. E' giusto andare in una certa direzione senza però fare sempre il solito confronto con il calcio. Il calcio è un mondo a parte, è tutto un altro tipo di business, quindi oltre agendo certi articoli si fa questo paragone, però secondo me è abbastanza inutile. No, però si possono prendere le cose positive. Alcuni spunti li puoi prendere, però non puoi fare il confronto tra quanto prende Roglic, quanto prende Aleksandro, ho visto un articolo, o Rugani. Secondo me è un po' sbagliato perché è tutto un altro mercato. C'è un indotto diverso, non solamente per il fatto che il calcio è più seguito, ma proprio per come è strutturato lo sport. Cioè il calcio si pratica all'interno di uno spazio chiuso, costruito dalla società o comunque finanziato dai investitori e le persone pagano per andare a vedere la partita. Questi soldi rimangono alla squadra, la squadra che guadagna anche la vendita di giocatori, anche sui diritti tv, quindi la squadra ha entrate da più cose oltre agli sponsor di giocatori. Nel senso indignarsi perché questa cosa non piace. Nel ciclismo questa cosa non può succedere, primo perché non si paga il biglietto, quindi manca una grossa entrata, secondo perché non sono le squadre che organizzano le partite o detengono il luogo in cui si fa, ma sono gli organizzatori stessi, che sono quelli che hanno poi i diritti tv, che è una delle più grosse entrate nel mondo del ciclismo, che paghiamo tutti noi tramite il canale Rai o gli abbonamenti alle piattaforme con GCN Plus. Questi soldi poi, una parte di questi, vanno agli organizzatori che detengono i diritti tv, che usano però per organizzare la corsa, che è costoso, organizzare una corsa su strada. Quindi non è che, a parte ASO che è riuscito a creare un impero, tutti gli altri organizzatori, soprattutto di corsi minori, fanno la fame, cioè rinvestono quasi tutto. ASO io sento che porta a casa 100 milioni di euro dagli sponsor nelle tre settimane e mezzo, del tour, monetizza. E ASO ha ogni squadra da tipo 1000 euro al corridore per partecipare. Eh, che però capisci. Un briciolino anche lì, eh. Sì, quindi, a parte ASO, che fa un po' una cosa a parte, le squadre possono stare in piedi soltanto al momento dagli sponsor che hanno sulla maglia. Quindi questi sponsor, ovviamente, cambiano. Cioè, uno sponsor può esserci per due anni, può andar via, la squadra rimane lì così, deve cercare un altro, sono sempre alla canna del gas. E quando sono squadre piccole, poi succede che vanno, anche in questo caso, a rifarsi sui corridori, prendendo corridori che pagano per correre, cioè portano uno sponsor. Adesso, io voglio delle professional adesso che abbiamo in Europa, non credo che ci siano... Ce ne sono. Però mi butte meno rispetto alla nuova. Ci sono meno professional, ma ce ne sono alcune che stanno in piedi quasi solo su quello. E sta cosa è un po' così brutta. Però si è ridotto di molto, eh. Eh, meno male. Questa tendenza, sono cambiate le cose, ovviamente in meglio. Si può sempre migliorare comunque. Sì, però non è così semplice, cioè non è che facciamo come il calcio, no? Perché strutturalmente è proprio diverso. E' giusto segnalare questa novità, questi 2.000 euro che vengono riconosciuti. Ecco, se i soldi arrivassero direttamente da un ente esterno come Luci, cioè non che lo paga una squadra ad un'altra squadra, cioè c'è un ente come Luci che è finanziato poi da tutti, quindi alla fine i soldi li diamo ancora sempre tutti noi, noi squadre. Queste sono le cose che deve fare Luci, non controllare i calzini, la posizione, tutte queste bagianate ogni tanto che fanno ridere. Purtroppo non sono sempre belle le notizie che vi diamo, ci ha lasciato Ugo De Rosa, fondatore dell'azienda di Cusano Milanino, l'azienda del cuore che porta il suo nome, ci aggiungiamo insomma a fare le condoglianze ai figli e nipoti che lascia. Intanto lo conoscevo molto bene, sono andato spesso in azienda, mi ha anche regalato la bici con cui ho vinto l'ultima gara, la prima e unica gara da professionista, conosco molto bene la famiglia, quindi andiamo un abbraccio forte. Andiamo avanti parlando dei risultati. Le corse weekend, abbiamo già menzionato Arelbeck e Gand Bebergen, c'è stata la gand delle donne elite, con il successo di Marlène Rösser. È stata un po' una corsa al massacro, sono statissime cadute, alcune proprio per quella canalina che, ti dicono che ne parlavamo noi della canalina in mezzo a strade belga. La canalina è entrata, ha steso tutti, però è andata fuori, è carreggiata, fuori. Poi dopo si, però sono stati caduti anche di quella cosa lì e insomma è tremenda. Marlène ha dominato letteralmente, è arrivata con due minuti e 42 secondi di vantaggio, ha pure sbagliato strada nel finale. Una corsa molto particolare. Dietro c'era un gruppetto che a quattro anni d'arrivo si hanno iniziato a guardarsi, ferme completamente, ma erano cinque, sei e sono entrato da dietro tutto il gruppone. Bastianelli è sempre presente in queste corse. Vinta da Meghana Jastrab e la nostra Marta Bastianelli è al sesto posto, che tra l'altro ha già vinto questa corsa, ha vinto il Fiandre. Siamo a Catalunia, altra corsa a vortura importante di settimana scorsa. Se ne sono andate di santa ragione Renko e Roglic, due tappe a testa, hanno imparato a casa. Prima e seconda generale, vinto Roglic con solo sei secondi su Evenepul. Sono visti anche valori impressionanti. C'è la salita che hanno fatto quando ha vinto la salita più lunga del Catalunia, dove ha vinto Roglic su Evenepul. Sono salite a 1.900 di van per 24 minuti, con potenze stimate altissime, quindi già a livelli e condizioni molto molto buone. Guardano il computerino, controllano i watt medi, guardano la tappa che ha vinto Cicco, grandissimo, Gisù Ciccone, l'unico a battere i due fenomeni. Una tappa che ha vinto Ciccone e Evenepul guardava costantemente il ciclocomputer, a un certo punto ho visto anche fardi l'app. Ma facci caso, voi andate a vedere la tappa vinta da Ciccone, Evenepul sale, fa tipo delle 40-20, non lo so, e controlla costantemente il vattaggio medio. Beh, si sta gestendo. Sì, sì, va benissimo. Ma non fa impazzire uno che sale con tutte le ruote e guarda il computerino, mi fa godere, però vabbè, ci sta. Quell'altro taglia il traguardo, neanche alza le braccia, stoppa, fa il lap, anche lui stoppa il computerino, va benissimo. Ci sono cose più importanti di creare spettacolo o esultare. Pogaccio è uno che è quello più ha istinto, Pogaccio. Io se dovevo scegliere, profisco Pogaccio, che lui le dà secche, però non sta a guardare sempre i numeri. Probabilmente vince meno di quello che potrebbe. Microscopica polemica, nonostante vinca tutto. Va benissimo, comunque è un altro grande spettacolo e si preannuncia una grande sfida al Giro d'Italia. Con Roglic che non correrà più fino al Giro. Non correrà più fino al Giro. Ha fatto la Tirreno, l'ha vinta vicino a tre tappe di fila. Ha fatto Catalunya, l'ha vinto vicino a due tappe. E adesso non corre più fino al Giro. C'è un motivo secondo me. C'è un motivo per arrivare magari al Giro più fresco possibile sicuramente. Senza essere? Senza cadere. Noi lo critichiamo ogni tanto. Ogni tanto per distrazione. E' come il grande campione, il grande goliador che ogni tanto si mangia dei gocchi. Lui si mangia ogni tanto qualche corsa. Più correre più possibilità di cadere. Però questo è un fenomeno. Ragazzi, 72 vittorie. Ha vinto tre volte, ok. Tutti i piccoli Giri a tappe più importanti al mondo. Ha vinto due Tirreno, due Vaschi, due Romandia. Una pariginista più una regalata che aveva perso l'ultimo giorno. Un Delfinato oppure quello uno ha regalato il caduto il giorno aprile. Tre. Ligi, Olimpiadi e adesso gli mancava solo il Catalunya. Corredore fantastico. Fantastico, fantastico. Prova la leggenda. Pecca di distrazione ogni tanto e che gli costano cari. Quella è l'ultima settimana dei grandi giri. Che ne ha persi di giri l'ultima settimana. Ha perso il tour. Ha perso il tour a Pogacar. Ma anche l'Uelte che ha vinto è rischiato di perderle negli ultimi giorni. Ah, rischiato. Perché gli manca sempre qualcosa negli ultimi giorni. Però ragazzi è un campione. C'è poco da fare. C'è poco da fare. Chiudiamo con il Gran Premio Industria Artigianato vinto dal irlandese Ben Hailey. Quinto posto per Ulissi. E poi con la Coppie Bartali. Con la IEF che vince la Coppa dei primi dieci. Mauro Schmidt. La Coppa dei primi dieci. Sai che nelle categorie giovanili c'era la Coppa della società che metteva più corridori nei primi dieci. Ah, sì perché ne ha messi. Allora ha vinto Mauro Schmidt della Quickstep. Secondo posto James Shaw, IEF. Terzo Ben Hailey della IEF. Quarto Mark Padum della IEF. Ottavo. Poi sesto, ricordiamo posto vivo, grande ritorno per lui. Con un secondo di tappa. Sesto posto. E poi abbiamo messo anche un bel ottavo di Sean Quinn. Quindi, insomma, Coppa dei primi dieci. Ha vinto il trofeo. Proprio animale. La stravinta, stravinta. Bellissimo. Andiamo avanti Giorgione. Prossime gare su GCN Plus. Le Samen femminile. Che si corre martedì. Quindi oggi prego che vedete lo show. La Dwarstdorf Laderen maschile e femminile mercoledì. Poi la Volta Limburg sabato. Il GP di Miguel Endurain sempre sabato. E ovviamente il Giro delle Fiandre maschile e femminile domenica 2 aprile. Cycling Inspiration. Ispirazione ciclistica. Vedete voi la sfida delle foto. Caricate sull'app di GCN. Andiamo al terzo posto. Allora. Davide Di Nuzzo. Di Nuzzo. Il Partenio. Piana di Lauro. Ad un aperitivo di compleanno di giovedì sera il solito biker avventuriero si avvicina e dice Sabato mattina. Piana di Lauro. Gli rispondo. Sei matto? 50 km. 2000 m di dislivello. Però poi ci accordiamo e contro ogni spiegazione ci avviamo. Il panorama da sua è fantastico. Ne vale sempre la pena soffrire per le due ruote. Grazie. Ma hai appoggiato la bici su un masso sul movimento centrale? Sì. Per fare la foto. Ma non si sfrisa così il movimento centrale? No dai. Ma qui sono bike. E mica fighetti che stanno guardando il graffietto. Queste qui. Testa bassa. Menare. 2000 m di dislivello in 50 km. Tanta roba eh. Secondo posto. Ciclo Susino. Val di Susa in tandem. Una giornata di ferie. Qualcuno con cui pedalare. Un bel posto da raggiungere. Pochi ingredienti per un momento di felicità. Bello questo tandem con i monubri o orecchioni. Andiamo a provare anche noi Giorgione. Non abbiamo mai fatto video con il tandem. Poi. Io senza catena dire. Primo posto veritatissimo proprio per il significato. Nicola Sarale 99 post parto. Da tempo volevi provare la bici da corsa. Durante tutta la gravidanza sognavi di poter iniziare a pedalare con me. Ed eccoci qua. Un mese due giorni dopo il parto. Il nostro primo giro in bici assieme. Hai preso la mia vecchia bici e via. Ora pian piano con i consigli di Alan e Giorgio. Troveremo la posizione in sella più adatta a te. Non potrei chiederlo di meglio. Io e te in bici insieme. Bellissimo. Quello che farò anche io con Martina a breve. Gireremo anche un video. Come insegnare a pedalare a qualcuno che non ha mai pedalato. Prendiamo mia moglie. Anche lei post parto. Anche lei post parto. Un po' più post. Hai mai andato sulla bici da corsa? No. Lei andava in bici da bambina ma finiva le scarpe perché non usava i freni. Usava le punte delle scarpe. Distinto. Siamo a quel livello qui. Quindi. Sono curioso di fare il video con Martina. Un po' correggere qualcosina però. Secondo me viene molto interessante. Secondo me è interessante perché diventa veramente un tutorial per insegnare a qualcuno che non sa andare in bici. Che magari vuole provare ma non è troppo convinto. Una strada per riuscirci. Non so se quello che proporò io sarà la migliore. Io voglio esserci lì. Vediamo cosa. Magari Martina mi manda col paese dopo mezz'ora. E' finito il video. Per essere presente per vedere tutti dietro le quinte. Perché dopo il video fatto finito. Tu vuoi vedere gli insulti che riceverò io. Sì 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 sì. Parco bici. Andiamo con questa bellissima T-Red di Mario D.B. Bellina. Mario D.B. Crab Strade Bianche Acciaio con il mio Fido Ferro a Castel Tirolo il primo giorno di primavera. Sì sì. Bello bello bello. Bravo Mario. Bravo Mario. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Global Bike Festival. Lo ricordo. Il 15 al 18 giugno ci sarò anch'io. Ci sarà tanta festa a fare. Tanta bici, mountain bike, strada eccetera eccetera. Tanta birra. E ci sarà anche Jens Vogt. Grande Jens Vogt. Tedesco. Tedescone. Che sarà presente e ci farà compagnia e verrà a bere birra anche lui. Grande bevitore di birra Jens Vogt. Grande motore. Grande padre. Un sacco di bambini. C'è una via dedicata. Un sacco di bambini e cinque o sei figli. Sì. Non sa neanche lui quanti ne ha. Sai che gli ho fatto perdere una corsa Jens Vogt. Ho fatto bene. Giro del Colorado. No scherzo. Giro del Colorado. Aveva attaccato. Era l'ultima gara che faceva la carriera. Ah pure. Sì sì. In fuga da solo. Che poteva vincere così. Ma io ho tirato. Ma per un motivo. Cioè per i tuoi capitani o di. Ha vinto. Ah ok. Ho fatto una mega performance e l'ho fatto perdere. Dignolo. Dignolo. Però potate farlo arrivare. Cavoli. C'è Elia che poi vince la volata. Per fortuna ha vinto eh. Se no non c'è Elia. Prendevo gli insulti. Però è andata bene. Ricordiamo anche che attualmente tutti i documentari presenti su GSM Plus sono stati tradotti in italiano. Ci sono sottotitoli. E cercheremo di mandare fuori anche i prossimi documentari sempre con i sottotitoli in italiano. Questa settimana esce Festina. Fallen Jump. C'è un gigante che cade. Il caso Festina. Quello che è successo in quegli anni. Cose brutte. Che però è giusto conoscere. Nella seconda metà degli anni 90. Ricordete poi lo sciopero al tour del 98. Quello che vinse Pantani. Fece un mega blitz. In casa Festina trovarono. Di tutto. Insomma. Un po' di tutto. La squadra non parte il giorno dopo. Insomma erano anni complicati. Se me è giusto guardare questo commentario. Comunque farsi un'idea. Se chi non sa cosa è successo. Per confrontare anche com'era il ciclismo allora. Rispetto a com'è adesso. Su tanti punti di vista. E com'è cambiato. Perché l'idea che sia del ciclismo. Purtroppo ancora quella. Dei finali 90. E non è più così. Su tantissimi punti di vista. Qui ci chiediamo. Perché siamo arrivati alla reperibilità. Sistema Adams. Si controlli a sorpresa H24 ormai. Purtroppo. Ci siamo arrivati anche per colpa. Purtroppo per fortuna. Ci siamo arrivati anche per colpa di questa gente. Comunque. Già. Andiamo avanti. Gente che fa cose. Mi chiamo Filippo. 23 anni da 3 anni. Assieme ad alcuni miei amici. Spendo due settimane durante l'estate. Per pedalare e scoprire posti nuovi. Ci siamo voluti chiamare famole strane. Proprio per sottolineare l'inusualità delle nostre vacanze. Nel 2020 abbiamo fatto Milano San Benedetto del Tronto. In 10 giorni. Passando attraverso la Cisa. Nel 2021 abbiamo finito il giro dell'anno precedente. Siamo partiti a San Benedetto del Tronto. Ci siamo arrivati a Palermo. Palermo. In 15 giorni. Soffrendo il caldo del meridione. Durante i mesi estivi. Facendosi anche Gran Sasso. Blocaso. Blocaso. Chi più ne ha più ne metta. Purtroppo lo scorso anno. Abbiamo deciso di andare oltre altre. A affrontare alcune delle sedite più iconiche. Degeno d'Italia del Tour de France. Con le finestre. Gituarga. Libia. Alpe Tue. Bonventù. Manca Autacame. Quelle abbiamo fatte tutte. Quelle più toste. Bravo Filippo. Bravi ragazzi. Tra l'altro se volete farlo magari con voi. Non so se è un gruppo aperto o chiuso. Trovate famole. Underscore strane. Su Instagram. Potete seguirle. Magari potete aggregarvi. E fare un bel gruppo o vacanze. E fare cose con quelli che le fanno strane. Quelle che fanno strane le cose. Di cose fatte. Che dovete fare cose su gsenitalia.com Se no non sono cose. Esatto. La vignetta di Gandolfo. Allora. Andiamo a vedere. Parigi-Roubaix. Una delle corse più insidiose. Praticamente al primo gli cade la pietra. E posso garantirti. L'ho preso in mano. Ero a casa di Sonny. Di Colbrelli. Pesa 17 kg. Quindi se ti cade su un piede. Non è che fai. Ai ai ai. No. Te lo disintegra praticamente. Il piede. Ciò pensai. Pensa se ti cade su un piede. Una roba del genere. Anche perché poi a fine. Cioè le braccia la ruba e soffrono. Tirarla su. Alla fine. Sul podio. 17 kg. Non è proprio una roba. Tanta roba. Un bel manubrione. Ehi ehi. Sì sì. Grande Gandolfo. Grazie per le tue vignette. Sempre divertenti. I tuoi commenti. Sono tornato anche io l'occhialetto. Giorgio. Non volevo lasciarti da solo. Iniziamo con Roberto Piazza. A proposito di la Sanremo. Allora. Da più parti si è detto che la scelta di Van Aert. Buona Corona 52. Possa averlo lievemente penalizzato. Soprattutto per i salti maggiori. Tra i vari pignoni che ne derivano. Le conseguenze e difficoltà a trovare di volta in volta il rapporto giusto. Che ne pensate? Che secondo me non è. Non è un problema. Cioè soprattutto per un colossista. Che è abituato a spingere a forte a cadenze diverse. Mi piacerebbe vedere un test cadenza potenza di Van Aert. Per vedere il suo range di cadenza ottimale di espressione potenza. Secondo me è uno di quelli più elastici. Non ha nessun problema. In più dovete considerare quello che guadagna a livello di peso. In una corsa dove conta poco. Però ha potuto usare una bicicletta aero. Togliendo un po' di grammi di deragliatore, corona e tutto quanto. D'accordo. Ricordatevi che il 52 10 è un 56 11. Esatto. Ne è abbastanza. Ce n'è. Ne è abbastanza. Stefano Maggioni. Anche oggi alla ganda arrivo in parata. Come si è già visto. Come se ne vedono sempre più spesso ultimamente. Nella memoria storica è rimasto tutto impresso. Alla ruba del 96. Quella della riva imparata della Mappei. Bella la dimostrazione di forza. Ma poco significativo l'arrivo. Dei due nel palmareste della corsa. Forse non sarebbe il caso di prevedere una vittoria ex equo in questi casi. Allora no. No. Sono d'accordo. A me non piace la riva imparata. Io sono un po' contro la riva imparata. Da volatina fatela. Poi alzate le braccia una volta fatta la volata. No. Ha senso di avervi imparata in una corsa a tappe. In una corsa a tappe. In una corsa a tappe. In cui uno punta la generale. Era una grande classica. No. Ma adesso se ammetti che siamo al Fiandre. Cioè Fout gli dice facciamola. No. O Laporte dice no non la faccio perché non succederà mai. Se stessa cosa succede al Fiandre vince Vanarte imparata ancora. Te lo dico io. Cioè Laporte lascia vincere Vanarte imparata. Se dovesse succedere. Ah sì sì. Altra cosa no. Ex equo no. No assolutamente. Però io inizierei a dare un po' di ex equo quando ci sono. Un photo finish. Perché ultimamente è successo spesso anche. A Calemiro. No. All'Amstel. Quando vince Vanarte su Pitcock. Erano pari. Sì. Poi non puoi dare una vittoria a una vittoria così importante per il 2 mm. Quando magari ci può essere un errore anche nella tecnologia. Un margine d'errore. Non puoi dare una vittoria per un millimetro. No. Sono d'accordo. Bisogna vedere come funziona. Vediamo questi ex equo. Non li danno più. No. Ma penso che. Non so. Non so come regolamento. Ma secondo me. Devono dare entrambi lo stesso premio di vincitore. Dalla corsa. Ah sì. Certo. Visto che il primo e il secondo posto è il minore del primo. L'organizzatore ha già stanziato i fondi per i primi. Ho capito. Però dai. Bastare mettere una regola che in caso di ex equo. Si prendono i primi del primo e del secondo. Si fa diviso due. Se lo spartiscono i primi due. In quel modo qua. Sarebbe più. Comunque quell'unstel del 2021 di Pitcock. Erano ancora. Erano pari. Io avevi dato un ex equo tutta la vita. Poi non si può fare. Ancora più scandaloso comunque. Poi era una gara piccola per carità. Però succederà a Sanremo. No dai vabbè. Non si può. Pierluigi Olgiati. Puntata su Mosè e Saroni. Vi prego. Non è per amore di sterile polemica. È storia del ciclismo. Mi piacerebbe il vostro commento sui vari temi toccati dai due in questi giorni. Allora. Noi a Saroni e Mosè ce ne vediamo in un secondo. Se volessimo farlo. fare un'intervista doppia. Ci possiamo pensare. Sì. Ma è una roba più per te questa. Secondo me. Vai tu. Fai una roba. Ma intervista doppia nel senso come quella che abbiamo fatto noi. Uno da parte dell'altro. Stesse domande. Non so se è così. Così non so se la vogliono fare. No. A parte che non puoi andare là dicendo che sarà un'intervista doppia. Devi dire. Facciamo un'intervista a Saroni. Poi. Poi magari in futuro la faremo a Mosè. Invece facciamo due giorni rivicinati. Avete capito che ha detto che la deve fare lui sta cosa. Incastriamo un po'. No. Sarebbe molto interessante. Riguardo a quello che ha detto Saroni. Ultimamente. Boh. Mi ha un po' stupito sta cosa. Non so se. Non so se. Praticamente. Ne ha parlato anche studio aperto. Il Corriere. Un po' dappertutto. Si vede che guarda la tv. Saroni. Saroni avrebbe detto. Avrebbe detto che Mosè vinceva grazie all'aiuto dei medici. Ah così. Proprio. Però sai. Non ho visto il video in cui lui lo dice. Sono sempre quelle frasi un po' estrapolate. Boh. Io non mi fido tanto. Mi sembra un po' strano anche perché loro si sono poi ravvicinati da tempo. Li abbiamo visti spesso insieme a rappresentazione di corse o serate di gala. una frase così buttata là. Non so in che contesto fosse. Allora. Anche perché di Mosè puoi dirmi. Si. Il periodo in cui hai provato il record dell'ora. Beh. Quello si sa cosa ha fatto. Lo sappiamo tutti. Ma. Finché ha corso su strada. Le sfide. Insomma. Con Saroni. Eccetera eccetera. Dirlo. Buttarla così. Mi sembra un po' un illazione. Anche perché non esistevano ancora. C'è l'ippo non esisteva ancora. Poi per carità. Esistevano altre cose. Che però. Non facevano cambiare il motore. Come negli anni 90. Con quali prove. Come fai a sparare. Se fosse vero. Io. Dico la verità. Non mi fido tanto. E' stata presa una frase un po' a buttarla così. Forse si riferiva alla parte finale della carriera. Record dell'ora con Coni. Ma non tutta la carriera. No dai. È stata un po' bruttina questa cosa. Però ci facciamo un bel video magari Giorgione. Lo fai. Si lo fai. Lo fai. Mettiamo un po' di peppe. Io non sto fuori. Non voglio sapere. Dopo l'anno scorso Bisentini. Rossi. Bravo. Io no. Se posso evitare di pestare. Evito. Intanto vanno pestati. Parlando della comunicazione Giorgione. Può capitare. Gioelle Gasparetto. Ciao ragazzi. Nella NCL. Non sono amatori. Sai che abbiamo parlato. Si. Sono dieci squadre elite che partecipano su invito. Poi ci sono altri criterium. Cittadini che non sono. Che sono open. Ovvero misti. Andavete tra elite. Continental e amatori. E elite cosa si intende? Per elite. Perché. Elite. Elite. Sono solo due. Sono gli elite. Che detto così. Sono professionisti. Cioè. Corridori professional e world tour. Cioè. Un corridore professional e world tour. Sul cartello c'è scritto elite. Per chi non avesse seguito. Parliamo del. Dei corsi in circuito. In America. Che usciranno su GCN Plus. Dei corsi in circuito in America. E poi sono gli elite senza contratto. Che sono in Italia. Che sono i post under 23. Che non passano ancora prof. E rimangono in squadre direttantistiche diciamo. Sì. Comunque io ho parlato con un mio amico che vive in California. Che fa anche lui gare amatoriali. Mi ha detto comunque che. Non è proprio una gara amatoriale. Cioè. Certo. Però non sono corridori professional. Sì. Cioè. Non sono corridori di squadre professional. Assolutamente. E quindi cosa sono. Cioè. Non sono più under 23. Non sono professional. Però è più dire che c'è che fa solo quello. Sì. Ci vivono di quello. Ma non è proprio regolamentata. Cioè. Lavora col ciclismo. Sì. Va bene. Andiamo avanti. 26. Stefan Muscoli. Il video della Roubaix. Che è uscito domenica. Molto bello. Muscoli. Ma i gioielli di famiglia. Dopo una corsa del genere. Come sono ridotti. Ma hai avuto problemi. Se sei in sella bene. Anche perché se tu sulla sella appoggi i testicoli. C'è qualcosa che non va. Esatto. Cioè. Non ci devi sedere sopra i testicoli. Io vedo mai dappertutto. Forche i testicoli. Non faccio la Roubaix. Cioè. Esatto. Non è che. Ci devi sedere sopra i testicoli. Non so come sei messo in sella. Sulle pelotas proprio. Usi le pelotas per fluttuare. No. Non funziona così. Perché è il primo mezzo settore. Sei già. Sei già da ospedale. Senti facetti in gruppo. Esatto. No. Se sei messo bene non hai problemi. C. C. Potete dare la velocità a cui pedalate. Per noi ciclisti amatoriali cuni mortali. Che vorrebbero confrontare le prestazioni con degli X-Pro. Quanto. Sempre sul. Sulla Carrefour dell'Arb. E su. Ah. La velocità che andavamo. Non lo so. La velocità che andavamo sul Pavel. Non mi ricordo. C'è. Le tracce su Strava ci sono. Se volete andare a vederle. C. Comunque eravamo. Tranne un pezzo dove vado a 100 ore. Perché mi è rimasto. Il vuo acceso in super strada. Ah sì sì. Avevo fatto un trasferimento. No. Ecco. Non andavo a 100 ore. Capito anche dai settori. Perché tipo la foresta di Aremeg. Inizia in leggera discesa. È lì veloce. Era tipo una conca. Poi il finale. Tutto in solita. Sale tutto e sei piantatissimo. Però insomma. Quanto andavamo. 35. 35. 37. Sì. Abbiamo fatto qualche pezzo dallo spinto comunque. Sì sì sì. Poi abbiamo fatto solo qualche pezzo. Ma abbiamo. No. Abbiamo fatto tutta. Assolutamente. Ugo Piardi. Ciao e complimenti per i video. Una domanda per Giorgione. Ho anche io la tua stessa C68. Come si è comportata sulle pietre? Bene. Guarda. Io ho sentito un responsabile di Colnago. Prima di andare sul Roubaix. Ho detto oh. Io vado sul Roubaix. Con la C68. Ruota da 60. Io peso 103 kg. In quel momento lì. E entro nella foresta a cannone. Come se non ci fossero domani. Cattivo. Cattivo. Penso che un test così. Non ve l'aveva fatto nessuno. Su una vostra bici. Il miglior test che potete fare. Ha tenuto. Ha tenuto. Un problema. Cioè se tiene con me. 103 kg. Dentro nella foresta. A quel modo lì. Direi che ti ha superato la grande. Ma qualcuno dice. Con le bici super costose. Cioè se non si sono rotte con me. Non si deve rompere la bici. Oddio. Qualche cerchetto. Qualche cerchetto. Qualche cerchetto. Te la puoi giocare. Quelle sono un po' più a rischio. Le ruote ovviamente. Qualche cerchetto. Però anche quelle hanno tenuto. Non si sono stortate. No no. Però se fai tutto. Ragamente io. Vedi i cerchi schiantati. Mi ho visti tante. Avevo bene. Sì. Vabbè. Andiamo avanti. Continuate a scrivere. I commenti. Mi raccomando. Qui sotto. Nuovo sondaggio sull'app di GCN. Chi vince il Fiandre 2023? Matteo Van Der Poel. Put Fanart. Tadej Pogacar. Altri. Altri. Però scrivetelo nei commenti. Scrivetelo nei commenti. Giorgio. Chi vince? Pogi. Pogi. Io dico. Van Der Poel. Ma tu lo dici apposta. Lo dico apposta. Ti vuoi autoguffare. Difficile. Difficile dirlo ragazzi. Però altro. Sull'app. Molto carina la sezione di approfondimento sulle corse. Cioè prima che ci sia una gara. Nella sezione della gara stessa trovate sotto tutta la descrizione. I percorsi e torni. Le cose che fa Gianluca. Secondo me sono fatte molto bene. Una preview interessante da poter leggere. Sì. Che è un valore aggiunto in più. Ed è gratuito. Nella sezione gratuita del... Caption Challenge. La sfida imprevedibile. Come può essere il giro del fiandre. Imprevedibile. Può succedere di tutto Giorgio. No? Sei d'accordo? Certo. Se dipende una cosa commenta. Può succedere che vinca la Cession che abbiamo lanciato la settimana scorsa. Andrea Malaspina. Quando prendi troppo alla lettera le parole di Alan e Giorgio sull'importanza della multidisciplinarità. e tra un pavè e l'altro decidi di recuperare con una sessione di ciclocross. Sì. Che rama denen è proprio perché il pavè è duro abbiamo detto che la gente preferisce andare sull'erba. Scorri meglio. Scorri meglio sul pavè. Stai proprio alla grande. Comodo. Basta che non trovi i vetri delle ceres dei tifosi che erano lì. Andiamo con la foto di questa settimana con i due fenomeni. Due fenomeni che controllano dove sono finiti gli altri. Venite o no? Si sfiammano sui denti e poi guardano la situazione. Quanti li abbiamo staccati? Dove appoggi? Che indietro che tira gruppo. Quello strappo dopo a lei. Altra legnata e via. Che spettacolo. Bello bello bello. Si pronuncia un grande fiandre. Mi raccomando siete ormai campioni del mondo di Caption Challenge e quindi... Via la sfida. Via la sfida. Siamo arrivati alla conclusione di questo show 221 Giorgione. Come sempre se vi è piaciuto mettete un bel like. Commentate qui sotto. Iscrivetevi a G-SinItalia e anche a G-SinItalia Racing che sta sfornando un sacco di highlights in questo periodo. Tanta roba. Tanta roba. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao.